Demetos Demir ha preso la decisione migliore della sua vita Demetos Demir, come tutti sanno, è nella serie tv Dogiuganev Kaderindir. Tuttavia, il progetto sarà completato a metà maggio. Perché ci sono molte persone che chiedono cosa stava succedendo, è perché nascosto nelle valutazioni in Turchia. Se non puoi permetterti una serie di buoni voti vengono danneggiati dal canale dell'editore. Ogni sera, molte serie tv diverse vengono trasmesse sulla televisione turca e le serie le cui storie sono indebolite ottengono anche bassi risultati di ascolto. Purtroppo la serie Dogiuganev Kaderindir dovrà arrivare in finale. Perché la storia è finita e gli spettatori non supportano lo spettacolo tanto quanto prima. Tuttavia, questa serie è stata una grande esperienza per Demetos Demir. Alto interesse per gli attori di ruolo della commedia romantica in Turchia, ma il rispetto è basso. Quindi le serie di commedie romantiche sono semplici. Gli attori che non interpretano ruoli drammatici sono visti con sospetto dall'industria come talenti. Ecco Demetos Demir, dimostrando di poter interpretare ruoli drammatici con molto successo, ha effettivamente infranto i pregiudizi su di lei. Ha fatto un ottimo lavoro. Perché sebbene il personaggio di Zeynep avesse molti malfunzionamenti, Demetos Demir li ha chiusi con la sua buona recitazione. La durata della serie per due stagioni è stata anche il risultato del suo successo.